Una estate turbolenta quella riminese. Dopo fogne e rifiuti, ecco oggi i sigilli al notissimo bagno 26 di Marina Centro. Una operazione congiunta di finanza carabinieri municipale che ha rilevato come diversi manufatti sarebbero abusivi. Un'azione voluta dalla procura di Rimini, intenzionata a imporre maggiore disciplina anche nel delicato settore turistico. Un fermo però che cade nel bel mezzo dell'estate romagnola e che danneggia ancora una volta l'immagine della città. Siamo un po' amareggiati per tutto quello che è successo ma possiamo anche capirlo. D'altronde noi ci mettiamo tutto il nostro buon impegno, siamo qua a disposizione per collaborare con la magistratura e con gli enti competenti. Noi siamo per far crescere una città, per fare turismo come va fatto. E queste cose qui ci lasciano un pochettino la mare in bocca, vedere gli elicotteri che ci girano sopra la testa, vedere 15-20 persone, sembravano un sequestro di persone, sembrava che io fossi un delinquente. Sì, sono un delinquente, sono disposto a pagare e a rispondere dei miei errori fatti. Però quando abbiamo detto agli organi di competenza quello che c'era di esistente al Bagno 26 e di regolarizzare, di fare tutte queste cose, si è sempre scivolato, scivolato, scivolato fino ad arrivare a fare queste belle figure ridicole di fronte ai clienti dove gli stabilimenti sono pieni, fortunatamente, e la gente chiede ma cosa è successo, cosa non è successo. Questa è l'immagine che noi andiamo a dare in giro della nostra bella e meravigliosa Rimini. Ci riserviamo a dire adesso tutte le cose come stanno perché faremo una conferenza stampa oggi o domani per poter dire come stanno veramente le cose perché questi gazebi qua sono qua da più di dieci anni.